Questo è un video che non avrei voluto fare, erare, erare, come avete letto nel titolo ho deciso di chiudere il dio canale, ci voglio pensare ancora qualche giorno e voglio sentire anche qualche video che torno, vanno benissimo gli insulti, le parodie, le youtube poop, le reaction, vanno benissimo i pollici in giù e le critiche, c'è un video che non vi piace, sei frocio e sei un pezzo di merda, se vi disiscrivete dal canale, vergognati coglione, Se vedete un po' di miei video, vedete che il canale non vi piace, tu hai bisogno di una corda, così fai un cappio, non troppo stretto altrimenti non scorre bene, ricorda di ungere la corda con del grasso altrimenti potresti non morire ma farti solo male Un problema amici come prima, quello che va bene sono i messaggi di odio, odio non verso di me, odio verso gli altri, vi spiego la differenza tra un insulto e un messaggio di odio, leggiamo questo per esempio Dio, canale, frocio e pezzo di merda, coglione, questa persona sta augurando la morte ad un essere umano, è una bella cosa Questo è odio verso l'umanità, perché se c'è qualcuno di fragile mentalmente tra i miei fan, e sicuramente c'è, e legge questo messaggio, sicuramente sono belle frasi da leggere E leggete anche questo Immaginate se un ragazzino, magari che già a scuola viene preso in giro, può avere un sacco di problematiche nella sua vita, è una bella cosa A me non dà fastidio la bestemmia, per me potete bestemmiare finché volete Però, se lo scrivete nei commenti, non state portando rispetto verso tutte le persone che leggono e che credono in Dio Mi sembra una bella cosa, nasosa Sei un down di merda Vi voglio ricordare che down è un'offesa, non è una sindrome Viviamo in un mondo dove esiste la libertà e questa libertà mi consente di fare tutti i video che torno e che desidero E ne sto facendo veramente tantissimo ultimamente di ogni tipo A chi dice che certi miei video non dovrebbero essere su youtube, faccio notare che sei un down di merda Quindi io sono libero di mettere quel video L'unico momento in cui la libertà finisce è quando si fa del male alle altre persone E io credo di aver fatto del male alle altre persone ma qui nemmio ha ma qui